Chi sono i geniattori? I geniattori sono un gruppo di genitori che ha scelto il teatro quale luogo per divertirsi e far divertire i propri bambini e quelli dei propri amici. Cos'è Pinocchio dei geniattori? È una rivisitazione del celebre libro di Collodi che tenta di dare un messaggio positivo sia ai bambini sia agli adulti.